In realtà Repubblica è un quotidiano molto renziano, non ha sentito me, ha fatto un'operazione di contrapposizione di Civati a Renzi, che è l'unico genere letterario che in questo momento va di moda. Io parlo di gattopardismo per tutta la situazione del Partito Democratico, perché sarebbe banale riscontrarlo solo nell'atteggiamento o in alcuni atteggiamenti di questa Premiership. In verità è da un anno, e questo si sposa perfettamente, è in negativo il discorso che faceva Niki, è da un anno che noi coltiviamo un trasversalismo che molti nostri esponenti ci spiegano che non siamo né di destra né di sinistra, che queste categorie sono desuete, che non c'è motivo, anzi, io ricordo un passaggio di letta vertiginoso quando diceva che bisogna addirittura fecondarsi con il centro-destra, che mi sembrava un po' le serate un po' calde, magari uno si feconda, però capite che c'è, era una metafora un pochino bizzarra. E quest'idea delle larghe intese, peraltro, ed è quello il concetto che volevo affermare, queste larghe intese aumentano in larghezza e in lunghezza da quando Cerenzi ha il governo. Per me questo è di per sé un problema, perché io penso che invece noi dobbiamo tornare a una democrazia dell'alternanza e della rappresentanza, due concetti che si sono completamente perduti, anche nelle riforme, nel dibattito sulla legge elettorale, nell'impostazione stessa della nostra politica. E secondo me è anche l'unico modo per riassorbire fenomeni populistici, quelli di ritornare a fare ognuno il proprio mestiere. A me capita spesso di confrontarmi con esponenti del Movimento 5 Stelle che mi spiegano che noi non siamo più la sinistra, però sono loro i primi a teorizzare che loro sono da un'altra parte, non sono oltre, diceva Grillo all'inizio di questa sua carriera da politico. Ecco, io invece penso che ritornare a rappresentare qualcosa per qualcuno, con l'ambizione poi ovviamente di prendere un voto in più degli altri, ecco forse quella è la strada anche per il PD. E perché dico a Renzi che a me va bene tutto, io penso che il PD andrà bene, che vincerà le europee, non ho nessun problema e sarò molto felice, però il punto è che vorrei che fosse un partito plurale, che sappia rappresentare tutto questo tavolo arrivo a dire, che si ripensi come era nato l'ulivo, noi non abbiamo sacconi sulla bandiera, perché ieri era la giornata in cui attaccavamo la Camusso e promuovevamo sacconi, sono giornate così difficili che capitano una volta al mese più o meno, ma noi avevamo l'ulivo e l'ulivo era quel progetto di tenere insieme la sinistra cosiddetta più radicale con quella più moderata per un progetto di sviluppo, di crescita, di maturazione del paese. A me, insomma, io sono un po' nostalgico di quella cosa, non tanto alla sinistra burocratica, come sapete che poi è un po' bizzarro che io mi debba trovare a difendere la CGL, quando anche gli eletti dalla CGL in Parlamento non lo fanno, guardate che questa roba è forte, però insomma io penso che dobbiamo ritrovare uno spazio nostro e gli interlocutori spesso sono accusato di avere un'attività notturna, di cene, dopo cena, eccetera, con tutti quelli che non si adeguano, ma in verità per me queste persone, quelle che ci sono oggi, quelle che interloquiscono nel libro a sinistra un futuro possibile, sono davvero delle persone con cui a me piacerebbe fare politica per il futuro, insomma. Spero che le larghe intese prima o poi finiscano, sennò mi do la vita privata, faccio delle altre cose.